Da domani con buona pace dei commercianti partono i lavori di conseguenti inevitabili cambiamenti nella viabilità al centro di Pescara. Ad annunciarlo il sindaco Luigi Alboremascia e l'assessore alla mobilità Berardino Fiorilli che sottolinea come da domani inizi il cambiamento del volto della città con l'impronta decisa dell'amministrazione di centrodestra. Nei prossimi giorni stiamo adottando alcune misure viari e con l'apertura del cantiere di via Mazzini di Firenze da lunedì, via Trento andrà verso il mare così anche l'inversione di via Tassoni, via Cesare Battisti da via De Mici sarà invertita di senso per poter accedere al mercato. Da domani in particolare adotteremo le misure già annunciate qualche giorno fa, in particolare l'inversione di via Parini che permetterà una microcircolazione all'interno di quella zona dove ci sono state rappresentate alcune esigenze e siamo sicuri che anche questa misura allieverà per così dire i piccoli disagi degli operatori economici della zona. Il commercio e il traffico è un commercio che è destinato a morire, noi vogliamo dare vita alla città rendendola più vivibile, per questo è l'unico sistema per fare guerra, per così dire, perché non dobbiamo fare guerra a nessuno, ma per competere con i centri commerciali.